Sì, sicuramente c'è stato uno scarico a Barile da parte del Governo, alle amministrazioni locali e sicuramente c'è stato un periodo molto difficoltoso da parte dei primi cittadini che hanno dovuto proprio in prima linea cercare di affrontare le emergenze e soprattutto, come diceva il Sindaco di Vicenza, cercare di dare sostentamento a tutte quelle famiglie, soprattutto quelle in difficoltà, perché noi stiamo attraversando un periodo di pandemia che è già tragico per le persone normali, figuriamoci per le persone che magari hanno un disabile in casa, delle famiglie con notevole difficoltà a livello economico ma anche a livello sociale. Quindi c'è stato sicuramente un... arrangiatevi da parte del Governo e effettivamente devo fare solo i miei complimenti a tutti i primi cittadini che sono stati in prima linea in questa emergenza, indipendentemente poi dalla bandiera politica di appartenenza e dal partito di appartenenza. Diciamo che, per quel poco che posso dire del mio comune, noi abbiamo avuto la fortuna di rinegoziare dei mutui, quindi ci hanno dato delle disponibilità di cassa che sono state investite per abbassare la taria, ad esempio, in questo caso, lì è stata una scelta politica amministrativa sul quale non disquisisco, ma diciamo che non ci sono stati soldi a pioggia che hanno potuto garantire a un tessuto locale degli investimenti, ad esempio, oppure anche dei soldi dati a chi effettivamente poteva essere in difficoltà. Però, avvocato, approfitto, spieghiamo un po' Cavarzene, perché poi alla fine magari molti la conoscono, non la conoscono, si sono passati per caso, ci verrebbero volentieri, perché comunque è una cittadina simpatica, ci vuole un po' raccontare questa... Già che la definisce simpatica vuol dire che non ci sono altri aggettivi per definire. No, battute a parte, io amo il mio territorio, quindi anche prima, colloquiando prima della trasmissione, ho detto che Cavarzene è un po' distante da tutto, ma è vicino da tutto. Noi abbiamo delle peculiarità territoriali, perché siamo, io l'ho sempre chiamata la Porta di Venezia, noi siamo il comune più a sud della provincia di Venezia, facciamo parte di quell'area territoriale che noi chiamiamo area sud-veneziana, dove c'è Chioggia, c'è Cavarzere e c'è Cona, quindi partendo da est verso ovest, Chioggia, Cavarzere e Cona. Ricollegandomi al discorso di prima, che parlavamo di Recovery Fund, una parte cospicua del Recovery Fund, ad esempio, è stata destinata, o si presuppone che venga destinata, per le infrastrutture. Ecco, un territorio come Cavarzere avrebbe bisogno di infrastrutture, quindi sono anni, decenni, forse io ero ancora bambino, che sentivo parlare di Romea Commerciale, per uno sviluppo su gomma di territori che erano abbastanza lontani dalle grandi aree urbane. Ecco, ad esempio, una battaglia che io mi sentirei di portare avanti è quella di cercare di portare dei soldini per questo tipo di investimenti, perché è inutile pensare di investire dei soldi su territori che non sono strutturati per ricevere dei servizi. Purtroppo, come tante aree, ma l'area sudveneziana particolarmente, noi paghiamo un calo demografico inesorabile. C'è in provincia, nella città metropolitana di Venezia, Cavarzere, Cone e Chioggia sono gli ultimi tre posti nella classifica del calo demografico negli ultimi 15 anni. Bisogna recuperare un po', diciamo, bisogna fare qualcosa, creare delle... adesso magari ne parliamo, ne parliamo ancora, vediamo, ecco, ricordiamo da casa, se volete intervenire, 049 63 11 11, come sapete c'è il numero di telefono se volete fare domande, ma anche semplici osservazioni. Quindi da questo punto di vista, lo sapete, non è che uno deve fare forza la domanda perfetta, basta anche una riflessione, un pensiero. È utile perché è un momento di confronto anche con i nostri ospiti, e un momento anche di apertura verso altri argomenti. Ricordatevi inoltre che c'è la possibilità, non solo di vedere qui la diretta TV, ma anche Facebook e contemporaneamente anche YouTube. Quindi siamo in contemporanea su tre strutture. Quindi abbiamo... puntiamo anche su questo aspetto, avvocato Munari, del che cosa vuole il cittadino. Cioè, spesso, e questo che evidentemente abbiamo visto in maniera estremizzata nel governo attuale, Movimento 5 Stelle, PD, di questo allontanamento, secondo il mio punto di vista, della politica dai cittadini. Cioè, quindi, in genere, il cittadino diceva bene, sì, il politico vuole essere eletto, poi una volta va a Roma, respira un'aria diversa e non sente più il territorio. Invece dobbiamo pensare che, e invece deve essere tutto il contrario, noi cittadini, i cittadini generali, hanno bisogno di dialogare con le istituzioni. Abbiamo detto anche con la senatrice Bertini, con la senatrice Tofanini. Cioè, c'è bisogno di un ritorno alla comprensione del territorio, perché altrimenti facciamo i professoroni e alla fine non sappiamo neanche che cosa ha bisogno il cittadino. Giusto? La vera politica non si fa nel palazzo, ma si fa nelle strade, mi hanno sempre insegnato. Dopo, effettivamente, abbiamo notato, soprattutto in questi ultimi anni, che una volta raggiunto lo scranno, raggiunta la poltrona, c'è stato un disinteressamento del cittadino. Ovvio che la fin fine il cittadino è quello che poi va a votare, se ci permettono di andare a votare, quindi comunque bisogna coccolarlo e viziarlo. Lei mi ha fatto una domanda ben specifica, di cosa ha bisogno un cittadino? Il cittadino sicuramente ha bisogno di risposte concrete, ha bisogno di aiuti quando è in difficoltà, e ha bisogno di una certezza di quella che è la situazione, mentre da quello che sembra c'è una situazione molto incerta, non ce ne sa bene del domani cosa ne verrà e quindi in questa situazione veramente si trova ad essere ancora più distanti da quello che è il palazzo.